L'intonazione, cioè il modo di dare il suono alle canne, non tanto quello che vogliono loro, quanto quello che vogliono io. Le misure sono quelle giuste, ma è comunque un generatore anonimo che ha bisogno di essere adomesticato. Tutta una serie di operazioni sempre ripetitive che piano piano conducono al suono che uno vuole. Operazione da ripetere 1020 volte più o meno, se si facesse una volta sola per canne. Una volta fatta suonare in bocca, la proviamo con il vento suo, che è cosa saggia per risolvere il tempo da mano. A presto. 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 Grazie a tutti.